Buon approvato, signori da seduta è chiuso, benvenuti. E' scritto! Vergogna! Bravissimi! Vi dovete vergognare per le passate, rimarrete nella storia di Montparoccio. Vergognatevi, da domani vi dovete vergognare. Vi dovete vergognare. Dal primo cittadino all'ultimo congeliere. Passerete nella storia, vi dovete vergognare. Vi dovete vergognare, l'avete venduto da Montparoccio. Ho lavorato 40 anni ai musei, avete venduto anche quelli. Vergognatevi! Vergognatevi! Vi parlo un cittadino doc come l'olio. Quello là è doc, io sono doc. Vi dovete vergognare. E' un'occasione invadibile. sempre in una fusione imposta per legge. E stavolta sempre garantie e quelle di soluzioni che vorranno darsi. Ma non lo puoi fare! Vergognatevi, siete vergognosi! Conoscete le norme di legge. Hai capito Marco cosa hai votato? Certo! Hai capito? Sì, sono venuto senza di assare la manina. Non lo sai che non lo puoi fare? Ma non lo puoi fare, intanto se lo voti devi segnare. Ma non è nostra competenza. No, è vero, voi non c'entrate niente, è stato già tutto deciso. Domani ti porto un pacchettino di roba che lo leggi a casa, dai. Se non c'è... C'è chi dietro c'è. Un'imbecillità molto generalizzata e un'incompetenza su tutto. No, c'è solo malafredo. Opulismo, demagogia, verlusconismo perché si attaccano le persone. Avete combinato, avete venduto un numero 8, 4 milioni e mezzo, ma quanto vale il castello? Il castello vale più di 4 milioni o no? Cazzo! E' un momento di conto, quello che cazzo avete mi offeso. Mi hai offeso, mi hai vettuto! Questa sera tu mi hai vettuto, hai capito? Mi hai vettuto! Mi hai vettuto e ti devi sorgogliare. E te, il sindaco e tutta la tua maggioranza, non avete il coraggio anche di guardarci nella faccia e alzate la mano stando là dietro nascosto se fai così. Perché se guardavi se il sindaco alzava o non alzava la mano, perché chi comanda è il sindaco. E voi non avete fatto altro senza avere un'opinione. Almeno il referendum ai beni, almeno quello, date un segnale, date un segnale. Il referendum, la parola ai cittadini, che cavolo alzate le beni. Almeno l'emendamento sul referendum, ma avete capito per cosa avete stato la mano? Ma l'hai votato! Ma guarda che c'è una legge regionale. Ma chi se ne prega, date un segnale, date un segnale! Ma un segnale che vuoi dare? Sei cittadino di un'opinione? Ma la legge regionale deve essere scritta che dare un segnale non deve essere un segnale! Non davvero un segnale salvare! E' una politica più utile, vi dovete vergognare, andare a casa! La legge regionale deve essere scritta, se da qui veniva un orientamento è probabile che... Non mi percepisco, ma se da qui arrivo a più se c'è un'altra città, non mi percepisco, ma se da qui arrivo a più se c'è un'altra città, non mi sapevamo che sarebbe stata una serata sicuramente complicata, l'importante è credere in quello che si fa e mi dispiace per le persone che si sono fortemente arrabbiate questa sera, ma non solo da stasera, perché probabilmente non riescono a capire qual è il vero problema che non è svendere Mondoroccio, tutt'altro piuttosto che svenderlo, abbiamo cercato di fare del nostro meglio e siamo certi che questa sia la migliore situazione in assoluto, sono certo, certissimo che di qui a qualche mese le persone capiranno, noi siamo sereni e speriamo che anche gli altri recuperano un po' di serenità. Grazie. Come frazioni fanno feste, arriverà il mercatino di Natale, non troveranno niente, nessun mercatino di Natale, perché siamo noi a farci il mazzo, tutti a volontariato, è questo, vedi quello che loro ci danno a noi? E' proprio vero, l'erba cattiva non muore mai, è la buona, vedi, che ne va a soffrire, vergogna, vergognatevi! Viete vergogliosi, vi dovete vergogliare! Ma gli attucci sono gli attivi di Montparoccio, non ti pesano! E' la buona generazione! Visto a te, non venute! Visto in America! Non in caso dovete andare! Giovane che si è fatto, dovete venire da tempo! Ecco qui, vergognatevi, vergognatevi! Vi dovete vergognare! Giovane, domattina dovete andare a casa, non sul comune! Ho toccato qui dalle nuove, che meglio ancora! Domani mi apre il posto, diputate del Torno! Meglio ancora, ma no! Inclinate l'acqua, meglio di noi! Sì, che fascisti, comunisti e fascisti! Questo succediva al tempo di Mussolini, Hitler e vari! Non credevo in una roba così, da Montparoccio ci si dà e quarant'anni che faccio volontario, non pensavo che Montparoccio andava a finire così! Non avevo mai pensato, guarda, è vergognoso! È vergognoso! È vergognoso e lo dirò fino alla NASA, fino a che non voglio! Non c'è la mia roba così! E se... Lascia fermata, lascia fermata! Per quello io mi sono incassato! Almeno il referendo! Se i cittadini vogliono no! Vi tirate, avreste votato contro! Vi tirate! Questo pezzo di stroggio! Quella mente vergognita la votata! Perché non la avete votata? Cosa no? Non l'avete votata? L'avete votata contro! perché fa tutto quello che mi fa, sta con loro, sei un venduto, capito, sei un venduto, mi meraviglio di te, 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 ti devi vergognare, ti devi vergognare, perché ti stimavo, perché eri bravo come un borrocese, però ti sei fatto correre. che vergogna ragazzi che vergogna ragazzi che vergogna ragazzi che vergogna ragazzi